bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale allora andiamo subito a fare un po' qualcosina prendiamo tutto e andiamo avanti ragazzi portiamo avanti il barco ok va a posto raccogliamo tutto raccogliamo tutto raccogliamo tutto ok perfetto poi anche questo anche qua anche qua porto questo subito lo facciamo che è molto comodo no 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 ok vediamo se abbiamo qualche battaglia particolare da fare questa lotta per i fondi facciamo così due e tre anzi così così iniziamo vediamo un po' come va ragazzi se ho la voce un po' rauca è perché ho un po' di mal di gola oggi comunque in questi giorni riserva immediata ok scambia il dino attenzione cosa vuole fare nulla chiaramente lui a zero e via facciamo così e siamo anche in vantaggio sul prossimo con una riserva dalla nostra e lui è un carnivore quindi meglio di così non poteva andare 3 dai dai cambia ti rimane due attaccherà supponso ci attacca di due raga punto che a zero tocca a noi 301 372 perfetto sempre tocca a lui benissimo attacchiamo di sei e facciamola finita ottimo e anche questo è andato vittoria ok cosa che ci dà un po' di dollari raga potremmo provare a usare anche lui devo fare qualche erbivore raga perché non sono messo benissimo a erbivori come vedete combattimento un po' strano questo per noi riserva immediata dobbiamo usare una bella strategia uno ci attacca di uno immediatamente ci fa veramente male ok facciamo due riserva ragazzi non la vedo benissimo questo combattimento non la vedo benissimo stiamo infiorendo abbastanza lui a 0 lui a 1 facciamo così non si sarà neanche difeso eh lo sapevo lo sapevo ragazzi vabbè ok sperando ci attacchi di tre raga mi rimane anche uno di difesa ragazzi ai 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 3 9 6 facciamo così facciamo così ci siamo un po ripresi eh ci siamo un po ripresi potremmo anche andare a vincere forse di morfodonte ci fa fuori ma abbiamo tirannosauro dalla nostra poi ci attacca di 4 andiamo a vincere ragazzi partita malissimo ma in vittoria meno male 5 vai ottimo anche questa la andiamo a ragazzi con nonchalance ok vediamo l'ultimo l'ultimo è bello difficilotto allora facciamo così ci prendiamo lui poi uno e due senza tirannosauro che abbiamo appena usato la riserva tocca a lui due ragazzi cambiamo anche noi no due riserve dai meno male meno male 1 lui veramente cambia tantissimo fa perdere il conto dovrebbe avere zero adesso dovrebbe avere zero lui se non sbaglio proviamo raga 3 29 speriamo si 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 buono 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 ok lui a 3 ci attacca di 3 il suo prossimo a zero ok dovremmo andare a vincere anche questo senza problemi eh 4 riserve raga perfetto e anche il suo prossimo bello veloce lo andiamo ad abbattere 8 di attacco e si va a vincere perfetto vittoria e andiamo a prendere questo nuovo pacchetto dino dollari vediamo un po' che cosa c'è dentro ma più o meno già sappiamo 30 60 90 120 beh più punti fedeltà non è male ragazzi ve lo consiglio ok raccogliamo anche questo che fa sempre comodo 13 su 15 siamo vicinissimi ragazzi facciamo sempre triceratopo prima di arrivare a livello 40 con 15 di non ce ne mancano due raga qua c'è lo spazio si a voglia che c'è lo spazio ok 10 10 20 e ci siamo acceleriamo raccogliamo così almeno la facciamo ragazzi non adesso ma la facciamo 10 10 20 e ci siamo ok 15 10 10 10 20 acceleriamo raccogliamo perfetto 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 allora iniziamo a fare livello 10 su tutti così che si possano fare meglio i calcoli ragazzi 10 10 10 10 lo faccio su questi perché sono quelli che consumano meno risorse allora 10 10 10 ce l'abbiamo 20 10 10 20 20 20 20 30 quindi sono 1 2 3 4 sfidiamo sfidiamo ancora un po' così che poi possiamo andare a fare finalmente questa missione a procedere a livello 43 raga ok ok abbiamo un attimo perfetto ma ci fa l'evoluzione gratis meno male almeno a livello 20 che è quella più veloce ok ok 1 20 ce l'abbiamo acceleriamo anche questo qua molto veloce ok quindi 2 al 20 raga ce li abbiamo già poi ci serve un altro al 20 che andiamo a fare adesso ok eccolo qua quindi 20 20 30 e un altro 20 20 così da poter fare 30 30 a livello 40 ci siamo ragazzi ok evolviamo nel frattempo ragazzi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale chiaramente tanti like tanti commenti come sempre raga anche su instagram mi trovate come sempre come il rosso gamer raga iscrivetevi anche lì perché vi faccio vedere tutte le anteprime che abbiamo 20 e 20 20 e 20 evolviamo qua non ce lo farà accelerare quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video bella a tutti e tanti like tanti commenti bella ragazzi ciao 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 ciao